La chiesa che vive in una grande città come New York ha voluto celebrare l'Eucaristia con il successore di Pietro in un luogo di ritrovo per eccellenza, il Madison Square Garden, uno stadio coperto da 20.000 posti nel cuore di Manhattan, teatro di sfide di basket, pugilato concerti e convention politiche. Qui, dove nel 1979 Giovanni Polo II aveva incontrato gli studenti delle high school, Papa Francesco, accolto con grande entusiasmo nei 9 km da Harlem a Manhattan, ha salutato New York ricordando al popolo di Dio che Cristo è la grande luce che libera dalle tenebre, anche da quelle artificiali dello smog cittadino. In una città come la Grande Mela si nascondono tanti volti che sembrano non avere diritto di cittadinanza, stranieri, senza tetto, anziani soli, ma sapere che Gesù continua a percorrere con noi le nostre strade, ha spiegato il Papa, ci riempie di speranza e ci libera dalla tentazione di isolarci, di ignorare le vite degli altri. Gesù ci spinge ad andare incontro agli altri dove realmente sono e non dove ci piacerebbe fossero, ci libera dall'animato di una vita vuota, ha concluso Papa Francesco, e ci introduce alla cultura dell'incontro, ci libera dalla guerra della competizione per aprirci al cammino della pace.